8,7,6,5,4 Posizioni nel primo passaggio Manciocchi con l'Eskert seguito dalla Ferrari di Magno Cavallo e da Antonio Capuano e dalla Renault di ING di Poglio Norgagli Cercano di andarsene Manciocchi con la sua Esket ma è pressato da vicinissimo da Magno Cavallo con la Ferrari e da Capuano con la seconda Ferrari Resta a guardare un po' più staccato Norgagli con la Renault ING a seguire le due Red Bull Manciocchi, Magno Cavallo, Capuano, Morgagli, Cardelli, Cudugno, Bardelli, Bagagli, Pruschi, De Caro, Giorgio, Ottura, Salva, De Vincenti, Sezzaninelli Ah, che c'è questa macchina dall'altra parte? Ah, che c'è sul dritto? No, dall'altra parte dove andare quella macchina? No, dall'altra parte dove andare quella macchina? Grazie, grazie, brava, brava Fabrizio Selezioni Manciocchi Manciocchi, Capuano, Morgagli, Cudugno, Cardelli, Barberi, Bagagli, De Caro, Attura, Giorgio, De Vicenti, Sbruschi, Sarra, Zainelli, Magno Cavallo Adesso la Esket di Manciocchi è attaccata dalla Ferrari di Antonio Capuano Seguiti dalla ING di Barberi che adesso ha predoppiati davanti Vai a Morgagli, scusate Provassati 2 minuti e 40, pit lane aperta Pit lane aperta per il primo win stop Silenzio sul palco Via, Ferrari, via Dire che tagliamo l'entrata Chi è questo con la McLaren? Mi trovo, mi trovo, mi trovo Grazie 3 minuti e 30 di gara Posizioni Manciocchi con la Esket Cudugno e Cardelli con le due Red Bull Capuano con la Ferrari Morgagli con la Renault Bardelli con l'altra Renault Bagagli con la Benetton Mattura con la Rosso De Vicentis Daninelli adesso con la Brava Mattura con la Rosso Sarra con la Caterham De Vicentis con la McLaren e Vodafone Giorgio con la Esket De Vicentis con la Benetton Gruschi con la Mercedes Magno Vallo con la Ferrari Entra la Brava per il subit stop Perfetto Caterham uguale 4.40 di gara Ancora 2 minuti di bit stop Di bit line Bit line in aperta Questa è una pena Visi Iop 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 Un minuto e mezzo La chiusura della bit line Posizioni Manciocchi con la Esket Morgagni con la Renault IMG Coutumio con la Coutumio con la Red Bull Capuano con la Ferrari Cardelli con la seconda Red Bull Barberi con la seconda Renault Bagagli con la Benetton Mattura con la Toro Rosso Giorgio con la Esket Zaninelli con la Brabham De Vicentis con la McLaren Sarra con la Caterham De Caro con la Benetton Magno Cavallo con la Ferrari Bruschi con la Mercedes Giù qua sotto Un minuto Un minuto La chiusura della bit line Filenzio sul palco Posizioni Manciocchi con la Esket Morgagni con la Renault Manciocchi con la Esket Morgagni con la Renault Coutumio con la Red Bull Capuano con la Ferrari Cardelli con la seconda Red Bull Barberi con la seconda Renault Bagagli con la Benetton Giorgio con la Esket Attura con la Toro Rosso Silenzio sul palco 20 secondi alla chiusura della bit line 20 secondi alla chiusura della bit line Bit line chiusa Silenzio sul palco Posizioni Manciocchi con la Esket Morgagni con la Renault Capuano con la Ferrari Coutumio con la Red Bull Posizione Giorgio Barberi con la seconda Renault Bagagli con la Benetton Giorgio con la Esket Attura De Vicentis Zaninelli Magno Cavallo De Caro Sarra e Bruschi Silenzio sul palco ragazzi Accoglitore Accoglitore 8 minuti e 30 di gara Posizioni Manciocchi-Esket Morgagni-Renault Sono vicini adesso Morgagni sta cercando di andare a prendere la Esket di Manciocchi Mentre è un pochino più in ritardo Capuano con la Ferrari Errore di Morgagni Perde contatto e viene riagganciato da Capuano Silenzio sul palco Posizioni sono cambiate Manciocchi con la Esket Capuano con la Ferrari Morgagni con la Renault Cardelli con la Red Bull Coutumio con la seconda Red Bull Barberi con la Renault Bagagli con la Benetton Giorgio con la seconda Esket Attura con la Toro Rosso De Vicentis con la McLaren Vodafone Magno Cavallo con la seconda Ferrari Zaninelli con la Brabham De Caro con la Benetton Sata con la Calderam Bruschi con la Mercedes Grazie Capri Capri Un attimo Pitlane aperta per il secondo pit stop Grazie Silenzio sul palco Silenzio sul palco Fado per i Qui San Cosa Satu La geht Silenzio sul palco silenzio sul palco ragazzi posizioni a 11 minuti di gara Manciocchi a comando con la Esket seguito da Capuano con la Ferrari Cudugno con la Red Bull Morgagni con la Renault Cardelli con la seconda Red Bull Pavagli con la Benetton Barbarie con la seconda Renault Attura con la Rosso De Vicentis con la McCaren Giorgio con la Esket Zanielli con la Dapan De Cano con la Benetton Sarra con la Caterham Magnavallo con la Ferrari E Bruschi Magnavallo è fermo Valtuare è rotto da Ferrari Polman di giornata Che è dovuto fermare E Bruschi con la Mercedes 2 minuti da chiusura della B3 2 minuti da chiusura della B3 Così Giancarlo Proprio così Grazie a tutti i nostri spiaggiori Questi sono i suoi anni Buon peregni La Caterham è stata un po' La Caterham La Caterham La Caterham Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cazzo, provo lo soffi. Grazie a tutti. Un minuto a termine. 30 secondi a termine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.